Per volarti bene, io chiedo a te di tendermi a una mano e di salvarmi tra un fuoco. E questo cuore che ti amava tanto e cerco in questo pare di silenzio mi hanno detto che si vive in disperanza se tu vuoi mi aiuterai. Agli amici di Acri, benvenuti a tutti. A miei parenti, San Giacomo. Anche a quelli che sono lontano. Per questo me ti ho dato tutto aveva un cuore che ti amava tanto e non rinuncia a perderti per sempre. Io chiedo a te di tendermi a una mano e di salvarmi tra un fuoco. e questo cuore che ti amava tanto è ancora vivo e non sa fermarsi in questi occhi neggi la mia vita che il sino è perduta se pensa a te. grazie 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 grazie